Questo video riguarda i migliori tre termometri rettali. Il vincitore della qualità è il Scala Strada Comunale 17. L'SC17 ha un termometro di massima, cioè la temperatura più alta viene visualizzata dopo CA. 60 secondi. I nostri termometri segnalano la fine della misurazione con un segnale acustico. Quindi puoi essere assolutamente sicuro di aver preso la misurazione correttamente. I nostri termometri salvano l'ultimo valore misurato, che puoi richiamare premendo un pulsante. Puoi confrontare i risultati della tua misurazione in qualsiasi momento e tenere un registro dei valori misurati. I nostri termometri sono impermeabili, quindi puoi pulirli, lavarli e disinfettarli senza preoccupazioni. Ciò promette misurazioni igieniche permanenti e multiple. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Medisana FTC termometro. Può essere fatta con precisione su tre punti del corpo con il termometro FTC. Orale, sotto la lingua, sotto le ascelle e rettale. Il FTC può essere pulita facilmente dopo la misurazione. Per la pulizia è adatto uno straccio imbevuto con una soluzione alcolica leggera. E il termometro rileva una temperatura superiore a 37,7 gradi centigradi. Viene emesso un allarme febbre sotto forma di 10 BIP tripli. Il termometro per febbre salva il risultato della misurazione grazie alla sua funzione memoria e lo fa illuminare brevemente sul display alla prossima accensione. Il risultato viene mostrato dopo circa 60 secondi. Il FCT si spegne automaticamente dopo 8 minuti. Il vincitore del premio è il Peak Solution Termometro. Termometro digitale con sonda flessibile. Chiarezza del risultato, praticità e comfort per una misurazione ottimale della temperatura. Il grande display inoltre rende facile e immediata la lettura del risultato. Dotato di memoria dell'ultima rilevazione. Indicato per la rilevazione della temperatura corporea ascellare, orale o rettale. Caratteristiche generali. Sonda flessibile. Grande display di facile lettura. Tempo di misurazione. Ascellare 60 a 120 secondi. Allarme di fine misurazione. Allarme febbre sonoro. Memoria dell'ultima misurazione. Sonda Water Resistant Batterie Sostituibili Durata Batteria Almeno 1000 Misurazioni Astuccio Protettivo Trasparente Tempo di Misurazione Indicativo. Un apposito segnale acustico segnalerà il termine della rilevazione. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.